Ma che fai con i video? Eh? Non ci vede! Però lo metti su Youtube! Lei l'ho fatto nel video! No! 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 Non ci vede! Non ci vede! Non ci vede! Non ci vede! Oh, lo metti su Youtube! Non ci vede! Non ci vede! Non devi mettere su Youtube! No! E ne frega più un cazzo di vita! E adesso quando le con i putri gli colano! Ma mi puoi parlare? Non ci vede! Non ci vede!